cari amici di zona mista ben ritrovati oggi ci troviamo presso la sede di des asseriate in compagnia di lorenzo previtali atleta fiamme oro short track ciao lorenzo grazie per essere qui con noi grazie a voi allora lo short track nonostante i fantastici risultati degli azzurri è uno sport che molti non conoscono come lo descriveresti ma il short track è uno sport che secondo me avrebbe tutte le caratteristiche per essere uno sport avvincente adatto al pubblico purtroppo essendo uno sport molto poco praticato in italia ancora fa fatica a rendersi noto e secondo me è un peccato in quanto uno sport dinamico che in cui l'azione è molto veloce non richiede tanto tempo non è 90 minuti di partita secondo me un punto a sfavore sono le pause necessarie per il rifacimento del ghiaccio una circa ogni mezz'ora quindi questo secondo me è uno dei motivi anche per il quale ha poca visibilità e come è nata la tua passione per questo sport nonostante tu sia comunque giovanissimo allora in realtà da piccolo ho iniziato praticando patinaggio a rotelle più o meno otto anni ho iniziato gridi universo al ghiaccio insomma e la mia passione è nata dal fatto che mi piacesse patinare insomma da piccolo lo facevo per divertimento alla fine mi sono iscritto alla squadretta del paese e di fatto conosciuto il mondo del ghiaccio grazie a degli amici e con il fatto che ti apre più possibilità rispetto a quello che sono le rotelle perché essendo sport olimpico ti permette di diventare un professionista al contrario delle rotelle che piuttosto purtroppo non non ti consentono di diventarlo e ti ricordi la tua prima competizione se ce la racconti allora mia prima competizione dovrebbe essere un campionato interregionale a bormio che sarebbe una gara per bambini mi sembra l'età sotto i dieci anni piccolissimo sì sì 8 9 forse ho fatto la prima stagione senza competizioni quindi 99 anni è andata male male ovviamente la prima volta super ansia e insomma le difficoltà dei bambini però ovviamente sta una cosa che probabilmente come me la ricordo ora ricorderò per sempre insomma la prima gara la prima gara non si scorda mai come non si scorda mai la prima chiamata nazionale ti ricordi quel momento con le emozioni provato sì la prima chiamata nazionale junior è stata dopo la pandemia e di fatto ho visto la prima convocazione insomma è un passo che ti permette di allenarti insieme a tutti gli altri ragazzi di alto livello è un cambiamento importante invece per quanto riguarda la prima chiamata nazionale senior di fatto mi era stato già anticipato la scorsa stagione che sarei andato a bormio a allenarmi insieme a nazionale quindi quando ho visto la convocazione lo sapevo già però è stata sicuramente quando il direttore tecnico me l'ha chiesto un'emozione importante per me sapere di potermi allenare con un professionista una grande soddisfazione grazie comunque anche tutti i sacrifici comunque sei un giovane atleta come riesci a conciliare lo sport con la scuola è molto complicata come cosa cerco di ascoltare al massimo quello che posso quando sono a scuola le lezioni e incastrare gli impegni le verifiche e poi lo studio autonomo una parte ovviamente cruciale necessaria purtroppo non assistendo a gran parte delle lezioni bisogna fare da soli insomma specialmente per le materie che a mio avviso richiedono più spiegazione come può essere fisica matematica la situazione è un po complessa però in qualche modo quando torno a scuola cerco di recuperare e alla fine si incastrano verifiche con impegni sportivi e che consiglio daresti a un ragazzo più piccolo di te che fa il tuo stesso sport e ambisce a diventare un atleta professionista non abbatterti perché non è facile ognuno passa ovviamente momenti positivi e negativi come appunto soprattutto quando si parla di una carriera sportiva i momenti negativi li hanno tutti e continua a crederci perché è un bello sport e ne vale la pena quando poi raggiungi un terminato livello ti ha delle soddisfazioni importanti e anche comunque dei risultati importanti come gli ultimi mondiali juniors a danzica in polonia dove conquistato la medaglia d'argento nei 1500 metri si è stata una soddisfazione importante insomma una specie di sogno che si realizza per me nonostante due anni fa con la mia squadra fosse riuscito a vincere loro sempre a danzica sorte quest'anno insomma vincere una medaglia individuale è una sensazione ovviamente niente da togliere alla sensazione che si prova quando vincere la mia staffetta però individuale è qualcosa di diverso e è stato un ripagare dei miei sforzi durante questi anni e prossimo appuntamento tra qualche anno nel 2026 ci sono le famose olimpiadi un sogno nel cassetto le famose olimpiadi si sono il sogno di tutti immagino ovviamente c'è da lavorare e nella squadra è forte tutti sono competitivi e niente sicuro uno sport specialmente come il nostro in cui minimo errore ti costa una vittoria anche in questo caso c'è da continuare a lavorare e insomma un sogno sì di sicuro poi perché possa concretizzarsi è necessario aspettare non si possono fare anticipazioni giusto io ti auguro tanta fortuna soprattutto per realizzare il tuo sogno alle olimpiadi 2026 e ti ringrazio per essere stato qui con noi grazie a voi